Ciao bambini, vi ricordate chi sono? Sono la Cristina, vi mando un bacione, anzi due, anzi tanti. Purtroppo in questo periodo non ci possiamo vedere, però io a casa, insieme alla Valentina, ho pensato a dei gioi da fare quando torneremo al mido. Volete vedere? Questa è la scatola con i mini puzzle. Vediamo un po' cosa esce fuori da questa scatola bambini. Esce fuori un cane che si stacca e si riattacca. Come fa il cane bambini? Boh, boh! Poi esce fuori un riccio rosa che si stacca e si riattacca. Guardate! Ma come fa il riccio bambini? Boh, io non lo so come fa il riccio. E poi esce fuori un topino. Andrà in cerca di formaggio. Anche lui si stacca e si riattacca. Come fa il topino bambini? Sguit, sguit! E poi esce fuori un gufo con gli occhioni. E anche questi si staccano e si riattaccano. Come fa il gufo? Vediamo cosa esce fuori ancora da questa scatola. Un orsacchiotto marrone. E anche lui si stacca e si riattacca. Ma non sarà mica l'orso di faccia buffa, quello che vuole prendere la palla al bambino. Chissà. E infine esce fuori una rana verde. E anche questa si stacca e si riattacca. Ora rimettiamo a posto, eh? La rana qua dentro. L'orsacchiotto qua nella scatola. Il gufo nella scatola. E anche il topolino. Lo rimettiamo qua dentro. E infine anche il porcospino rosa. E per ultimo il cagnolino. Ecco un fatto. Questa la troverete all'asilo quando tornerete, eh? Ciao bambini! Ciao! Un bacione grande! A presto! Vi voglio bene! Ciao bambini! Ciao! Ciao ciao ciao! Ciao ciao!